Con l'inaugurazione della centrale operativa della ASL al centro affari crescono anche i numeri dei soggetti positivi contattati e tracciati tramite il personale sanitario incaricato delle operazioni, 100 persone per l'intera area sud-est. Due le giornate prese in considerazione dai dati che riguardano l'intera Toscana, quelle di domenica 8 e di lunedì 9 novembre. In entrambe le giornate il numero di soggetti positivi contattati nella sud-est supera l'80% ed è pari per la precisione all'86% domenica 8 e all'83% lunedì 9. Nell'ambito di questi dati rileviamo anche i numeri dell'area che comprende Arezzo, il Casentino e la Val di Chiana, che sono pari al 92% domenica e al 72% lunedì. Quelli della Val di Chiana retina sono rispettivamente l'81% ed il 91% e quelli del Val d'Arno il 94% ed il 90%. Nel territorio della ASL toscana sud-est in due giorni sono stati individuati 1.897 contatti di caso con prevalenza numerica dell'area retina. Netto il divario con le altre due ASL della Toscana, alle prese però con un numero di casi più alto, le cui percentuali sempre nei due giorni interessati sono inferiori al 50%.